Anche quest'anno, come negli ultimi dieci, il Partito Democratico di Carbonia ha organizzato il mercatino dei libri scolastici usati. Secondo il deputato Emanuele Cani, questa iniziativa, nell'attuale contesto di crisi economica del territorio, ha un duplice vantaggio per i giovani studenti che da una parte possono vendere i propri libri usati e dall'altra li possono acquistare per il nuovo anno scolastico a prezzi dimezzati. Un bel evento che si ripete e ogni anno c'è un successo ormai certificato. È una bella iniziativa proprio per il fatto che le famiglie possono trovare un luogo dove i ragazzi possono scambiare i loro libri, quindi il libro continua ad avere un valore non solo economico ma anche dal punto di vista culturale che continua ad essere valorizzato. Poi in un momento di particolare crisi come quello che noi stiamo attraversando è sicuramente una buona risposta, è un modo per tenere insieme le cose, per fare in modo che le famiglie possano avere anche un importante risparmio. Quindi è una bella iniziativa che ormai dura da dieci anni, che va ripetuta sempre con grande successo e noi siamo qui per continuarla anche negli anni futuri. Per quale motivo quest'anno avete scelto di venire in via Granchi e quindi di uscire dalla vostra sede? Diciamo che è un format che probabilmente funziona meglio per il fatto che comunque è un luogo pubblico, aperto a tutti, che dà la possibilità a tutti di non sentirsi neanche vincolati al fatto di entrare in una sede di partito. essere al centro della città in mezzo ai cittadini ci sembrava un modo, almeno gli organizzatori lo hanno considerato un modo migliore per poter rendere questa iniziativa ancora più pubblica, più aperta e più fruibile da parte dei ragazzi prevalentemente.